E' un onore essere qui a presentare questo importante volume sulla flora del Friuli Venezia Giulia. Io sono Francesco Boscutti, sono ricercatore all'Università di Udine in botanica ambientale applicata e dicevo ho l'onore di presentare questo evento e ci sono diversi motivi per cui sono onorato. Il primo è di tipo personale perché si parla di qualcosa che fin dall'infanzia muove i miei studi e la mia passione quindi la conoscenza della flora, delle specie spontanee e devo ringraziare chi è qui in sala, Fabrizio che è stato mio docente di botanica sistematica che hanno supportato questa grande passione e che ho la fortuna tutt'oggi di poter continuare a coltivare. Il secondo, ben più importante, è quello di avere un momento per fare una importante riflessione cioè questo volume ci porta di fronte ad un'importante riflessione sul grande valore naturalistico di cui già conosciamo, della nostra regione e anche su quali sono le prospettive future di questo importante valore naturalistico e della biodiversità di questa regione. In questo percorso avremo modo di valutare appunto intanto cominceremo con il secondo programma della serata con capire quali sono stati i presupposti che hanno permesso la pubblicazione di questa opera e quindi avremo i saluti di due importanti attori che hanno permesso la pubblicazione dell'opera alla regione che ci ospita e che ringraziamo anche proprio per ospitarci in questa bella sala e poi l'università di Udine e da ultimo ma non da ultimo anche la forum editrice universitaria che ha curato tutte le parti editoriali di questa flora in particolare volevo ringraziarsi Norma Zamparo e Cecilia Bortolan che hanno attivamente collaborato assieme al curatore Fabrizio Martini alla realizzazione del volume. E poi nella seconda parte andremo verso proprio la conoscenza della flora la conoscenza di questo importante volume prima però grazie alla presenza ringrazio fin da ora il professor Alessandro Chiarucci che è qui presente di cui vi dirò poi brevemente ma che rappresenta anche la società botanica italiana essendo presidente della società botanica italiana che cercherà di farci capire qual è l'importanza di opere come questa della flora regionale in un'ottica un po' più ampia macroecologica cioè quello che la riflessione che dovremmo fare oggi e cominciare a fare è su quale sono un po' le sfide che queste piante, che questa biodiversità a cui andranno in conto in futuro nell'ottica dei cambiamenti climatici nell'ottica di quello che alcuni scienziati chiamano la nuova epoca dell'uomo l'antropocene e poi ci sposteremo proprio grazie al curatore primo autore Fabrizio Martini a conoscere un po' più da vicino i contenuti di questo volume nota a margine all'ingresso avete visto c'è vi chiediamo una presenza per cercare di testimoniare insomma la vostra partecipazione e c'è anche messa a disposizione della forum ci sono delle cedole con delle cartoline che potete poi eventualmente utilizzare per poter acquistare l'opera con uno sconto rispetto a quello che è il prezzo di copertina ricordo che l'opera è distribuita comunque nelle librerie cittadine ma anche librerie regionali e nazionali oltre che ad essere acquistabile anche direttamente online se siete interessati allora io passerei adesso ai saluti chiamo quindi do la parola a Michela Tomasella Michela Tomasella lavora al servizio biodiversità in particolare nel centro per l'osservazione l'osservatorio della biodiversità come tecnico specializzato sì grazie Francesco sarò breve sia perché sono emozionata sia perché ho un abbassamento di voce notevole oggi rappresento il servizio biodiversità e diciamo che anche per me personalmente è un momento emozionante perché anche io ho iniziato a conoscere le piante con Fabrizio Martini quindi anche per me è un momento particolare ad ogni modo come servizio diciamo che per l'ottemperanza le nostre attività istituzionali da sempre promuoviamo e sosteniamo la pubblicazione di atlanti distributivi per le specie sia botaniche che faunistiche quindi per noi assolutamente è un passaggio importante più che altro si tratta di veri e propri strumenti di lavoro che diciamo coadiuvano le nostre attività in particolare diciamo in senso lato la conservazione della natura perché il servizio biodiversità della regione è preposto a queste attività più in particolare strumenti come gli atlanti distributivi diciamo di così soprattutto in questo caso una tante distributivo della flora che ha 15 anni di lavoro diciamo su più di 3.000 specie vegetali vascolari distribuite a livello intero a livello regionale e ancora più dettagliati rispetto agli atlanti precedenti sono degli strumenti che appunto sono utili per attività quali l'emissione di pareri nell'ambito dei procedimenti valutativi per esempio le valutazioni di incidenze ambientali le valutazioni ambientali strategiche o aspetti di questo tipo oppure per esempio nell'ambito della reportistica che ci viene richiesta dal ministero o dalla commissione europea una fra tutti la direttiva Habitat quindi sono strumenti che vanno diciamo a implementare le nostre conoscenze e ci aiutano a compilare questi documenti inoltre sono utili nell'ambito pianificatorio e non da ultimo aiutano anche a diciamo migliorare le conoscenze nell'ambito dell'istituzione di nuove aree protette poco tempo fa proprio ancora prima della pubblicazione ho chiesto al dottor Martini se poteva utilizzare i dati per migliorare diciamo le conoscenze scientifiche per l'istituzione di un nuovo biotopo ad esempio quindi questi sono diciamo dei dati che a livello istituzionale vengono utilizzati e il fatto che siano diciamo supervisionati in maniera diciamo rigorosa con rigore scientifico e sia una grande mola di dati diciamo validati per noi assolutamente sono aspetti importanti inoltre mi preme sottolineare e ancora ringraziare Martini e tutto e tutto lo staff e tutti gli autori perché hanno messo a disposizione la base dati relazionale che è ben ben strutturata e quindi interrogata in maniera opportuna può dare velocemente a noi che la utilizziamo anche diciamo dati fruibili in maniera veloce e diciamo esaustiva inoltre ancora prima della pubblicazione il confronto proprio con il dottor Martini ha aiutato a implementare quella che è la lista regionale delle specie protette per il regolamento della tutela della flora regionale essenziali dell'articolo 69 della normativa delle foreste e anche questo il cosiddetto allegato B è stato notevolmente implementato perché ci siamo resi conto che diciamo la raccolta di specie non diciamo così indiscriminata può portare alla ulteriore sparizione di altri elementi che sono rari nel territorio che non sono quelli tutelati dalle normative che conosciamo quindi ancora un grazie un grazie al dottor Martini a tutto lo staff degli autori lo staff dei collaboratori poi un altro aspetto che mi piace sottolineare che diciamo questi volumi questi lavori non sono di fatto commissionati diciamo così ma in realtà e non sono fatti da enti di ricerca veri e propri ma sono fatti da un lavoro volontario alla fine è un grande lavoro diciamo messo a disposizione di tempo libero e di conoscenze da parte di molte persone quindi sia appassionati che non ricercatori non enti di ricerca o meno molte persone hanno dato dati molti dati bibliografici e quindi insomma sono cose anche rare secondo me quindi è bene ancora una volta ringraziare grazie grazie Michela ancora proprio per l'ospitalità per l'ospitalità in tutti i sensi proprio per la sala ma è stato veramente fondamentale il contributo della regione per la pubblicazione e adesso passerei io la parola al collega Valentino Casolo che rappresenta qui oggi l'Università di Udine Buonasera di solito a rappresentare un'istituzione importante come l'Università di Udine c'è il rettore o i suoi delegati nella peggiore dei casi c'è un direttore di dipartimento ecco in questo caso effettivamente proprio per la coerenza delle materie di ricerca di didattica del nostro dipartimento avevamo chiesto al professore di Piazenti se poteva essere presente purtroppo non può essere presente e alla fine è il malcapitato che porta i saluti dell'Università sarò io non è che ho molto immaginato cosa dire sinceramente però volevo fare una piccola riflessione che parte proprio dalle ultime parole della dottoressa Tomasella cioè il lavoro fatto da volontari effettivamente non che non ci siano stati dei professionisti che hanno lavorato in questo Francesco e io insomma Francesco molto più di me come autore di questo di quest'opera ha collaborato io ho portato credo due tre mila dati non di più tra l'altro li hanno raccolti gli studenti quindi niente di che però la questione dei volontari perché si pensa che a volte degli appassionati dei volontari non siano capaci di fare un lavoro ben fatto e ritornando all'università che io qui rappresento per quale motivo l'università è interessata a questo lavoro beh lo diceva insomma l'ex facoltà di agraria quello che adesso si chiama con una parola con un acronimo un po' strano di 4A dipartimento di scienze agro alimentari ambientali e animali è la facoltà di agraria la facoltà di agraria con i cambiamenti che abbiamo subito negli ultimi 20-30 anni ha trasformato la sua attenzione verso il territorio e adesso abbiamo un corso di laurea che è il corso di scienze per l'ambiente e la natura e anche la laurea magistrale che si occupano di questo qui vedo molti nostri studenti quindi forse i miei saluti non sono i saluti delle autorità ma sono i saluti prima di tutto degli studenti degli studenti che hanno iniziato all'interno della nostra università a occuparsi di questo tipo di studi allora all'università dicono avere tre missioni la ricerca la cosiddetta terza missione cioè il trasferimento al territorio della conoscenza e poi la didattica che in teoria dovrebbe essere la prima allora per quanto abbiamo detto della conoscenza del valore scientifico di questo lavoro non spetta a me a dire nulla perché poi parlerà di questo l'autore del lavoro il professor Fabrizio Martini e il nostro gradito ospite il professor Alessandro Chiarucci per quanto riguarda il trasferimento della conoscenza al territorio Michela vi ha già detto una chiara declinazione dell'importanza della valenza a livello sia normativo ma soprattutto di applicazione delle norme che riguardano la conservazione della natura e quindi arrivo al terzo punto al punto della didattica cosa ci insegna un lavoro di questo tipo e torniamo a quello che ha detto prima Michela fatto da volontari ci insegna secondo me una cosa molto importante ormai noi siamo tutti abituati e soprattutto i giovani che sono quelli che assorbono più queste novità questo mondo che cambia questo nuovo che avanza per citare un libro di Michele Serra un nuovo che avanza dove non c'è più tempo per riflettere dove tutto è rapido e dove tutto si misura con un pollice alzato allora la rapidità è un valore secondo me molto importante ce l'ha insegnato anche Italo Calvino in Six Memos for the Future un'opera bellissima ma io non sono così d'accordo sul fatto che il pollice alzato sia importante secondo me spesso importante anzi dovrebbe ritornare a essere importante il lavoro fatto con coerenza dignità con calma per lungo tempo e correttezza del dato e questo è il lavoro che è stato fatto da Fabrizio Martini dai storiautori e da tutti i collaboratori che con calma per 15 anni hanno battuto non posso dire metro per metro ma chiaramente è un luogo comune i sentieri del Friuli Venezia Giulia e anche il fuorisentiero per riuscire a dire dove stanno le nostre circa 3.000 specie in quale posto esatto possiamo trovarle ed è un lavoro certosino io ho sempre associato questo tipo di lavoro a quello dei frati ammanuensi che ricopiavano con cura i testi sacri e perché lo facevano per ricevere un like no perché era giusto così perché il buon Dio lo voleva io non posso certo dire se il buon Dio lo voglia oppure no ma so che questo lavoro è stato fatto in questo modo con precisione cura e sicurezza del dato scientifico no la scienza non ha sicurezza la scienza non ha verità la scienza ha solo un'ottimizzazione della conoscenza secondo il metodo usato e io credo che questo lavoro sia stato fatto esattamente in questo modo con calma tranquillità e assoluta correttezza fra le righe senza proclami senza piante brillanti o intelligenti ma semplicemente testimoni del nostro tempo che cambia grazie Fabrizio grazie a tutti gli autori bene grazie Valentino e adesso cominciamo con le presentazioni le presentazioni presentazione del presentatore prima e quindi ringrazio ancora ulteriormente il professore Alessandro Chiarucci per essere venuto qui stasera e per introdurci un po' all'importanza dei contenuti di 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 questo volume di questo lavoro incessante di questi ultimi 15 anni il professore Alessandro Chiarucci è ordinario di botanica ambientale applicata all'università di Bologna è il presidente della società botanica italiana ma soprattutto è un botanico ed ecologo che ha a livello internazionale trattato questioni importantissime di distribuzione della biodiversità questioni macroecologiche biogeografiche che si fondano sulla conoscenza del territorio e su queste opere e quindi per questo è importante che sentire quello che avrà da dire io mi fermo qui potrei dire molte altre cose che dirige un centro proprio sulla macroecologia all'università di Bologna e che si occupa proprio delle tematiche che vedremo di quale sarà il futuro di questa biodiversità quindi queste sfide di cui si parlava di cui si è parlato della gestione e della conservazione della biodiversità quindi lascio la parola ad Alessandro e grazie 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 Francesco grazie a tutti per l'invito è un piacere devo lanciarla io la presentazione si come faccio non ho familiarità con il mio computer che siano ah ok grazie io uso solo software open source e quindi quando ho un computer così non riesco non so dove mettere le mani grazie a tutti ovviamente da parte mia prima di iniziare a parlarvi voglio dire due cose anch'io se me lo permettete due cose proprio sull'evento di per sé quindi oltre a ringraziare chi ha organizzato chi ha gestito quindi la regione Francesco l'università anch'io voglio dire che i botanici come guidati da da Fabrizio Martini che è il coordinatore l'editore di un gruppo peraltro anche altri hanno lavorato sono davvero l'essenza stessa della della ricerca e per troppi anni negli ultimi decenni si è perso un po' questo valore no? perché chi andava in campagna a raccogliere i dati in qualche misura diciamo si è un po' anche nelle nostre se ne è affievolito di importanza in realtà per fortuna oggi siamo resi conto di quanto questi dati siano fondamentali e quanto siano importanti per fare ricerca anche di altissimo livello si sono avuti degli anni in cui c'è stato un po' di considerazione vabbè si roba da scaffali polverosi dei musei questi dati diciamo gli erbari le raccolte e quindi anche in molti atenei si sono perse queste posizioni adesso ci siamo resi conto di quanto mancante sia la conoscenza dove questi elementi di conoscenza si sono persi quanto sia importante reinvestire anche a livello di atenei e di centri di ricerca quindi è importante fare queste considerazioni che faceva anche il collega Casolo dell'Università di Udine questa calma questa non farsi prendere dalla logica che c'è stata ai nostri atenei del publisher perish io quando ho preparato questa presentazione di cui ora vi inizio a raccontare qualcosa mi sono tenuto a quello che Francesco Boscutti mi ha detto quindi di non parlare non vi parlerò assolutamente del tomo vietato ma di quello che si può fare con i dati che vengono raccolti in questa e in n altre sorgenti di persone che fanno questo tipo di raccolta di informazioni ho cercato quindi di rendere di raccontarvi una storia che ci faccia sentire quanto è importante questi dati sono veramente importanti per questioni fondamentali sia di ricerca che anche di cambiamento anzitutto visto che siamo un pubblico diciamo anche di ampio respiro mi permetto di dire qualcosa su cos'è la biodiversità parola di cui oggi parlano tutti fino a dieci anni fa quando parlavamo di biodiversità venivamo quasi deristi come quelli che vanno in giro con il retino a seguire le farfalle o a cercare le primule sulle montagne invece oggi è diventata una parola un po' di moda in cui ce l'hanno un po' sulla bocca tutti la biodiversità è un concetto molto difficile la diversità delle forme viventi e si può caratterizzare a vari livelli di organizzazione ho preso uno dei tanti schemi che fanno vedere come questa possa andare dalla diversità genetica la diversità che c'è tra ciascuno di noi ciascuno di noi è un po' diverso dal vicino anche dal babbo dal figlio dalla moglie dalla figlia eccetera quindi c'è tutta una variabilità ma la forma più tipica più caratteristica è quella delle specie delle specie diverse che noi enumeriamo e di cui descriviamo la distribuzione o la scomparsa o la comparsa quindi la specie viene spesso definita l'unità la currency la valuta corrente con cui si misura la biodiversità basta pensare anche diciamo ai racconti biblici quando Dio avrebbe detto a Mosè prendine due di ciascuna specie per salvare la biodiversità dall'alluvione dal grande diluvio che stava arrivando quindi è un concetto anche molto 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 radicato nella nostra cultura nonostante tassonomi passatemi questa questa battuta ma quante cavolo sono queste specie di questo mondo non lo sappiamo non ne abbiamo la più pallida idea non ne abbiamo la più pallida idea ad oggi abbiamo stimato 2022 è stata descritta la due milionesima specie elencata sicura quindi abbiamo almeno due milioni di specie descritte su questo pianeta ma se ci dobbiamo chiedere quante sono quelle che dobbiamo ancora descrivere la risposta è forse tre milioni e mezzo quindi ne mancherebbe un milione e mezzo forse trenta milioni quindi ne mancherebbero ventotto milioni dalle due che conosciamo uno dei lavori più accettati più globalmente diffusi è questo di Mora e colleghi che nel 2011 ormai o 12 non ricordo hanno deciso di fare una stima utilizzando vari modelli vari metodi e hanno sancito che il numero di specie probabilmente verosimile per il pianeta Terra è 8,9 milioni quindi 8 o 9 milioni per approssimare di specie esistenti sul pianeta ne conosciamo 2 milioni significa che tutt'oggi dopo due secoli e mezzo di esplorazione tassonomica scientifica moderna abbiamo descritto meno di un quarto di quelle che esistono per le piante ovviamente siamo un po' messi meglio perché sono più facili sono più grandi la maggior parte della conoscenza mancante è sugli insetti ovviamente sui funghi su gruppi in cui la tassonomia è più indietro perché mancano gli esperti o perché la diversità è così tanta specialmente nelle aree tropicali che ne manca tanta per le piante in realtà stimiamo che l'80% siano state descritte si tratta circa 400 per dare un numero così approssimato in modo grossolano circa 400 mila specie in tutto il mondo qui parliamo di 3 mila quindi 3 mila su 400 mila per una regione tutto sommato piccola a scala planetaria è una bella fetta di biodiversità se ci pensate l'ha menzionato Francesco ci avevo messo una slide così per parlarci un po' sopra sull'antroposcene l'antroposcene è quest'epoca in cui il nostro impatto sugli ecosistemi diventa così massivo che verrà registrato dai sedimenti geologici l'antroposcene non è definito soltanto dagli ecologi dai filosofi è definito dalla commissione stratigrafica internazionale cioè sono i geologi sostanzialmente che hanno definito come l'inizio dell'accumularsi di certi nostri prodotti nel sedimento geologico ci sono due o tre definizioni ancora vanno un po' limate ma sostanzialmente gli elementi radioattivi degli esperimenti nucleari e i detriti quelli che si chiameranno i tecnofossili cioè chi verrà fra 100 mila anni a studiare gli strati del pianeta troverà i tecnofossili che potranno essere dalla ciabatta di plastica al telefonino a un pezzo di automobile o a qualsiasi altra cosa quindi in questi strati non ci saranno solo le ossa dei dinosauri e le conchiglie dei molluschi che troviamo abitualmente i nostri fossili ma ci saranno i nostri residui per darvi un'idea di quanto importante sia studiare la biodiversità nell'antroposcena mi piace dire questi due numeri nel 2020 la massa delle cose costruite all'uomo incluso le sedie su cui stiamo stiamo passando noi il pomeriggio ha superato la biomassa del pianeta Terra cioè ci sono più oggetti costruiti dall'uomo che animali e piante la plastica è il doppio degli animali 8 gigatonnellate verso 4 quindi ormai il nostro impatto sull'ecosistema è così massivo che la vita è stata spremuta in uno spazio anche massivo di massa piuttosto piccolo vi dico un altro numero sugli animali che assommano circa 4 gigatonnellate i mammiferi che sono circa 6-7 mila specie incluso le balene delfini i canguri tutta questa roba qua il 32% della biomassa sono gli esseri umani di 7 mila specie il 64% sono gli animali domestici il cibo per umani più o meno diciamolo in modo brutale quindi umani e cibo per umani assommano il 96% della biomassa dei mammiferi del pianeta Terra e il 4% è la massa in cui sono costretti tutti questi numeri ci indicano semplicemente una cosa lo spazio naturale si va restringendo si va costipando in piccolissimi numeri chiaramente più piccolo la biomassa non si possono comprimere gli elefanti ma nemmeno le primule più probabile è la probabilità che queste si estinguano e quindi è importante sapere dove sono è importante sapere dove abbiamo queste presenze per come diceva appunto la Silvia per proteggere per fare nuovi biotopi nuovi siti di conservazione l'IPBES è la piattaforma intergovernativa su la biodiversità e i servizi ecosistemici un po' l'analogo dell'IPCC la piattaforma intergovernativa sul climate change un po' più più giovane ha iniziato a rilasciare una serie di documenti in cui stima che da qui alla fine di questo secolo quindi il secolo dei nostri figli non un futuro remoto un milione di specie andrà estinto da qui mia figlia del 2005 è verosimile che arrivi a fine secolo nella sua vita vedrà scomparire un milione di specie se anche la stima fosse sbagliata del doppio saranno 500.000 ma mia figlia vedrà un mondo più povero di 500.000 specie rispetto a quelle che il suo babbo cioè io ho visto queste cose ci fanno riflettere su quanto sia importante sapere dove quanta sia dove stia e che trend abbia la biodiversità che noi osserviamo bene veniamo alle piante sono un botanico dovrei parlare di piante ho iniziato con gli animali che hanno numeri più facili da gestire anche le piante sono messe relativamente decisamente male questo è il rapporto del QGarden del 2020 in cui pubblico si può scaricare dal sito del QGarden si chiama lo stato delle piante e dei funghi del pianeta in cui stimano stimano quante siano le specie che vengono annualmente scoperte e in un solo anno quello precedente quindi il 2019 erano state scoperte praticamente funghi nuovi e piante nuove alla velocità di almeno uno per giorno cioè alla velocità di almeno una specie per giorno si sono scoperte nuove specie ma due su cinque quindi il 40% sono minacciate di estinzione e ce ne sono alcune elencate anche per il nostro paese c'è una sintesi solo delle specie arbore ci sono tre specie legnose tutte del meridione la zelcova sicula che è stata scoperta solo meno di vent'anni fa è già a rischio di estinzione il sorbus un sorbus e un ramlus ci sono certamente molti numeri più alti per le specie erbace ma non abbiamo semplicemente dati di queste legnose abbiamo più dati più informazioni quindi sono state quantificate quindi due su cinque significa il 40% delle specie verosimilmente andranno a diminuire o potenzialmente anche a scomparire bene e dove stanno tutte queste specie è importante sapere come sono presenti uno dei tipici effetti del riscaldamento climatico è la loro necessità di spostarsi più a nord ad esempio dove il clima è più fresco o più in alto in montagna vi faccio vedere questo grafico questa analisi che abbiamo pubblicato due anni fa su una rivista appartenente a una società scientifica perché c'è anche questa cosa delle riviste commerciali ma non ci voglio entrare perché è una battaglia sto facendo in cui abbiamo analizzato il gradiente altitudinale di tutte le specie le native sulla sinistra le endemiche e le aliene quindi le endemiche sono quelle che stanno solo in quel luogo le aliene quelle totalmente strane nelle alpi apuane nel massiccio un massiccio montuoso circoscritto che va da zero dalla versilia dalla costa toscana fino a 2000 metri quindi un massiccio montuoso in cui è stato possibile per noi studiare la distribuzione del numero di specie vedete il numero di specie è molto alto a bassa quota e scende con la quota questa è la quota delle montagne arriva a 2000 poco meno 2000 questo qua è il numero delle specie endemiche il numero delle specie endemiche sale per avere un picco il massimo delle specie si trova fra i 1200 e i 1300 metri e poi scende perché ovviamente le montagne le apuane sono relativamente piccole in alto c'è pochissimo spazio le aliene invece quelle che vengono da fuori sono molto alte in basso e poi scendono bene questi trend cambieranno con gli anni perché il riscaldamento spingerà alcune specie più in alto spingerà le aliene via via colonizzare sempre come abbiamo fatto a ottenere questi dati grazie a un lavoro del professore Erminio Ferrarini che negli anni aveva fatto l'Atlante della Flora esattamente come questo aveva pubblicato un Atlante della Flora per tutte le 1500 1600 mi ricordo quanti fossero specie le alpe apuane e pubblicato per ciascuna specie il range di altitudine qui siamo stati in grado di modellizzare nel periodo in cui Ferrarini ha raccolto i dati e quindi offrire uno schema di base dove sta la diversità quanta ce n'è e come sono i rapporti tra gruppi di specie negli anni potremo vedere chi aumenta le montagne come le apuane peraltro hanno un limite fisico che essendo relativamente basse le specie potranno salire ma non più di tanto perché non c'è montagna sopra i 2000 bene per farvi vedere quanto dati di interesse anche futuro possono emergere ve ne faccio vedere anche qualcun altro da studi che sono stati categorizzati semplicemente come affatto elenco delle specie quindi era stato dato poco valore a questa flora era stato riconosciuto poco valore qui un altro luogo a cui sono molto affezionato le isole Olie un bellissimo arcipelago tutto vulcanico in cui le isole essendo tutte vulcaniche non sono mai state connesse alla terraferma sono vulcani immersi dal fondo del mare stromboli ogni tanto si vede che ruttano anche al telegiornale queste hanno avuto anche una storia passata perché quella che è Panarea una famosa isola turistica era prima un grande vulcano che poi esplose adesso ha lasciato un pezzo di isola un pezzo della paleo isola come Panarea e altri scogli che facevano parte dell'edificio vulcanico precedente questo posto è molto attivo è un posto in cui la geologia fa queste foto le abbiamo fatte una su stromboli a destra e una su vulcano a sinistra vulcano dà pure il nome ai vulcani l'avevano chiamato così i romani ma tutti i vulcani del mondo si chiamano così per il nome di questa isola e ospitano specie endemiche questa è una foto fatta quando ancora si poteva salire su stromboli prima dell'incidente del 2018 dove in alto ci sono solo tre specie due sono endemiche centaureo eolica e citisus eolico una è una dactilis glomerata una specie apparentemente banale che qualsiasi florista nemmeno segna forse però è diversa è morfologicamente diversa l'abbiamo raccolta l'abbiamo portata dai colleghi che hanno fatto la proteomica è venuto che è totalmente diversa dalle altre dactilis glomerata presenti sulla stessa isola a quota bassa o sulle altre isole quindi avere queste informazioni di chi sta dove e assieme a chi altro serve anche a trovare queste specie che potrebbero essere criptospecie specie non conosciute una diversità diciamo apparentemente ignota a un'analisi più superficiale e poi ci siamo chiesti ma la menzionava prima Francesco ci sono delle informazioni generali che possiamo estrarre da queste isole abbiamo cercato di capire quanto conti la superficie per sapere per governare la biodiversità abbiamo raccolto tutti i dati che i floristi in particolare Pietro Locascio Salvatore Pasta hanno raccolto in pubblicazioni e abbiamo fatto delle relazioni specie aria poi ve ne faccio vedere un'altra in cui il numero di specie sull'asse Y è correlato alla dimensione dell'isola ok con una relazione questa qui di Arrenio una power funk una funzione di potenza bene questi due puntini che hanno ben meno specie di quanto il modello prevede sono i due vulcani più attivi quindi si riesce dal dato floristico a leggere la storia geologica che ha fatto sì che queste isole sono così ancora giovani che non hanno raggiunto la diversità delle altre semplicemente confrontando l'età geologica con la superficie e il numero di specie e poi siamo riusciti a confrontarle con tutti gli arcipelaghi del Mediterraneo quindi grazie al fatto che vari floristi hanno fatto atlanti di questo tipo in non solo le leole ma anche nell'arcipelato toscano nelle isole d'adriatico in croazia nell'ionio della grecia e così via quindi si possono confrontare patte di grandissima scala tutte le isole tutto il Mediterraneo grazie al lavoro accurato di decine di floristi e di migliaia e migliaia di dati vi faccio vedere di più questa qui è una delle fotografie più famose per i naturalisti una delle fotografie una delle tavole più famose per i naturalisti Alexander von Humboldt grandissimo esploratore che raggiunge la vetta del cimboraso ritenuto all'epoca la montagna più alta del pianeta in compagnia del buon buon plan e elenca le specie che vede salendo dal livello del mare fino ai 6.000 metri elenca le specie che vede e ci dice dove le trova in questa tavola è piena di informazioni sono tutti i nomi delle specie le quote altitudinali bene Naya Moreta Olme del gruppo Christian Sven Diego Rus sono tornate a cercare quelle specie dove Bonplan e Von Humboldt le avevano elencate e hanno scoperto che la maggior parte delle specie che provengono da un libro del 1800 quindi una cosa da scaffale di biblioteca sono tutte salite più in alto e sono scomparti alle parti più in bassi riuscendo a dimostrare quindi gli effetti del cambiamento climatico in una di quelle che è una delle serie storiche più lunghe esistenti sul pianeta ma solo perché quei dati c'erano questo si è potuto dimostrare ve ne faccio vedere un altro questo qua Manuel Steinbauer collega tedesco studiato a Bayreuth gruppo dove sono stato per tre anni visiting mi ricordo mi chiamava comunque professore visitante per tre anni ha avuto questa idea prendiamo tutti i dati dei vecchi botanici a partire da Pavlosky e da Braun Blanchet delle alte montagne sopra nella fascia alpina e andiamo a ricampionarli e vediamo cosa è successo in tutte queste montagne sono riusciti a trovare che oggi ci sono più specie in alta quota di quelle che avevano osservato gli antichi botanici ma solo perché gli antichi botanici ci hanno mai lasciato questi dati siamo riusciti a misurarla e questo lavoro è stato anche possibile correlarlo l'aumento della ricchezza di specie vedete le Alpi sui Pirenei i Carpazzi le Alpi Scandinave è stato possibile correlare l'incremento del numero di specie in questi archi temporali alla delta temperatura per anno cioè il numero di specie per anno nelle vette alpine è aumentato in funzione del delta temperatura osservato in quelle stesse vette per anno quindi questi dati di nuovo considerati forse a letteratura grigia come si dice spesso di poco valore hanno permesso di dimostrare il cambiamento climatico questo qui un altro dato più vicino ve lo faccio vedere su le Dolomiti Bellunesi dove insieme alla collega Yuri Nascimbene che ne parlavo prima al professor Nimis collega del mio Ateneo e a una serie di altri colleghi incluso Cesare Lasen e altri abbiamo ricampionato dei dati degli anni 70 e 80 delle vallette alpine e di vari ambienti diciamo alpini dove avevamo dati floristiche vecchi bene in tutti il dato è un po' complicato quello rosso è il numero di specie la distribuzione del numero di specie per vari tipi di habitat nei dati originali e quello azzurro è il dato ricampionato da noi nel 2020 in tutti questi ambienti abbiamo dimostrato che il numero di specie ha aumentato rispetto a quello che osservava solo 30 anni fa e sotto abbiamo scomposto non sto a chiedervi di leggere il grafico si vede bene che sono arrivate molte specie diciamo termofile e sono scomparse specie microterme ad esempio quindi si riesce a leggere il cambiamento anche in un piccolo ecosistema in piccolo rispetto alla scala globale in un nostro parco come le Dolomiti bellunesi ve ne faccio vedere un altro quanto sono importanti questo qui Pietro Zangheri forse molti dei naturalisti ricorderanno il manuale di Pietro Zangheri pubblicato da Epli come si chiamava naturalista raccoglitore quello là il raccoglitore Pietro Zangheri ha lasciato un archivio bellissimo con tutte le coordinate sostanzialmente le mappe di dove ha fatto ha raccolto i dati e ci ha lasciato 22 plot ne ha lasciati di più però qualcuno non esiste più per Faggetti Castagnetti e Cerretti nella Romagna campionati fra il 1934 e il 1961 noi li abbiamo ricampionati nel 2018 esattamente usando i suoi dati di archivio che sono questi qua che vedete e ve lo faccio breve qua se andiamo a vedere noi troviamo sempre molte meno specie di quelle che lui osservava in totale molte meno specie questa è la ricchezza di specie questo è nello stato arboreo questo è nello stato arbustivo solo nello stato arboreo troviamo più specie ma in totale troviamo solo 239 specie rispetto alle 284 che lui trovava e questo vale per le Faggetti vale per i Castagnetti vale per i Querceti quindi apparentemente è una lettura semplificata una perdita di biodiversità andando a guardare le specie questo è un ordinamento in realtà ci siamo resi conto che le specie scomparse sono tutte quelle dei pascoli dei prati perché quei boschi all'epoca di Zangheri erano molto pascolati erano usati dal bestiame erano tagliati un po' più frequentemente quindi abbiamo osservato una diminuzione di specie ma siamo riusciti a vedere una flora più forestale quindi grazie a questo confronto di circa fra i 60 e gli 80 anni abbiamo visto un cambiamento di questi boschi che sono diventati delle foreste hanno aperto tutta quella componente di flora diciamo di ambienti aperti che prima era presente e oggi non c'è più e lo si riesce a correlare con ad esempio la temperatura con l'umidità il suolo più acidi quindi ad avere informazioni anche di come è cambiato il suolo perché estraendo le informazioni ecologiche delle specie si riesce a capire se queste indicano un suolo di un tipo o di un altro un'esigenza idrica o un'altra qui siamo riusciti a dimostrare che i boschi della Romagna sono oggi più ricchi di suoli fertili più freschi ma è popolati da una flora nemorale molto più abbondante di quella che vedeva Zangari ovviamente cambia tantissimo i numeri l'85% delle specie l'abbiamo osservato è diverso da quello che lui vedeva l'85% solo il 15% è simile vi faccio vedere un altro caso di studio a cui sono molto affezionato sempre grazie ai botanici delle università di Pisa e di Firenze che andavano tradizionalmente a fare gli elenchi di specie in tutte le isole dell'arcipelago toscano incluso questi isolotti di secondario ordine e lasciavano questi report mi sembra ecco ci abbiamo messo una slide questi report dei libri o delle pubblicazioni che oggi non sono scienziate da Web of Science da Scopus che sono questa flora pisana o questo il prodomo e la flora toscana o la florula di Capraia o la florula di Gorgona in cui però lasciavano questi elenchi di specie isola per isola dal 1830 in poi quindi l'idea è queste sono un database sostanzialmente sono un vero database di informazioni antiche che abbiamo convertito in tabelle in database moderni digitali diciamo poiché durino di più di quelli cartacei Pierluigi non lo so probabilmente no prima parlavamo della durata dei documenti cartacei con il professor Nemes e siamo riusciti quindi a confrontare due figure delle flore una fra il 1830 e il 1950 diciamo a cavallo del novecento e una moderna post bellica 2015 e abbiamo osservato come il numero questo è il numero totale di specie fosse 1600 nel primo periodo 1601 1541 quindi diminuito di poco ma quello che è diminuito è la parte grigioscura le specie native mentre le specie aliene sono più che raddoppiate e vi faccio vedere questo questo è nella X quante specie c'erano ogni puntina è un'isola questa è più grande quindi è l'isola d'Elba aveva 1200 specie circa 1150 specie nel 1900 ne ha solo 900 oggi quindi siamo riusciti a correlare il numero di specie oggi con quello allora antico diciamo e in tutte queste isole è diminuito è diminuito del 20% circa abbiamo quantificato no scusate il 17% comunque è diminuito in maniera significativa in tutte le isole però poi siccome sappiamo se queste specie sono native o sono aliene guardate l'ordine dei puntini il nero significa sono rimasti stabili il rosso si sono perse e il verde no scusate i verdi stabili il rosso perse e il nero acquisite per le native il rosso è sempre più grande più a destra del nero quindi sono più le specie che si sono perse di quelle che sono acquisite dal turnover dal cambiamento una specie va e un arriva è normale è un processo normale in biogeografia nelle aliene il nero è sempre più grande del rosso e anche spesso quasi sempre del verde quindi si riescono a misurare questi effetti della trasformazione di queste isole proprio in termini quantitativi misurando gli effetti della flora quindi vi faccio un altro esempio abbiamo parlato di rete natura 2000 di aree protette e di quanto questi dati siano importanti per queste politiche rete natura 2000 non lo sto a dire perché ormai credo la conoscano tutti la usiamo anche a livello popolare eccetera abbiamo celebrato nel 2022 30 anni dell'istituzione di questa rete si tratta circa 16.000 siti 16.000 siti in Europa che coprono il 18,6% della superficie in Italia 1200 siti in Friuli Venezia Giulia non lo so ma insomma saranno diverse centinaia di siti immagino un po' meno quante? 70 quindi una settantina di siti solo nella regione Friuli 1200 in Italia 16.000 in Europa bene ci siamo chiesti ma quante specie ci stanno di piante ci stanno là dentro siamo in grado di dire se funziona o non funziona nel raccogliere nel preservare la biodiversità abbiamo fatto una serie di ricerche ve ne faccio vedere una questo grafico qui in basso a sinistra mostra il numero di paper le colonne e il numero citazione fatti su Web of Science con archivio e raccoglie pubblicazioni che citano Natura 2000 Natura 2000 Network diversità di specie eccetera vengono alcune centinaia di pubblicazioni se però guardiamo quanti di questi guardano l'intero complesso a scala europea cioè misuriamo cerchiamo di misurare la scala europea se funziona troviamo un lavoro uno sugli uccelli uno sui vertebrati terrestri 842 specie facile giocano facile no? sulle piante nemmeno uno nemmeno uno ha provato a vedere se quante specie stanno dentro o no ci abbiamo provato noi da due anni abbiamo raccolto i dati da un database europeo per questo poi vorrei dire che è importante che queste informazioni fluiscano in database internazionali e ci siamo scaricati 1.419.786 plot di cui 1.222.000 dell'Unione Europea che sono quei puntini là e li abbiamo incrociati con la rete Natura 2000 ipotizziamo che questo sia un poligono uno dei vostri 70 siti della regione uno dei siti un sito abbiamo il plot che è una coordinata un centroide quindi e anche un errore di stima perché queste coordinate non sempre hanno un errore GPS di pochi metri a volte sono 100 200 500 quindi li abbiamo attribuiti tutti come o dentro o fuori della rete Natura 2000 poi ci siamo trovati di fronte a 21.774 nomi che abbiamo ripulito usando una serie di checklist nomenclaturali europee quindi di nuovo è importante usare standard nomenclaturali informazioni e una serie di informazioni sul fatto di essere elencate in specie di direttiva legato 1 tutte queste cose che conosciamo siamo arrivati ad avere solo 10.243 nomi bene e qui in questa tabellina vi faccio vedere che succede a questi dati ne abbiamo alla fine buttando quelli che non avevano accuratezza spaziale sufficiente eccetera abbiamo lavorato solo con 769.000 plot per 14,2 milioni di dati di occorrenza per 9.600 specie dentro rete Natura 2000 che è circa il 20% del territorio ne abbiamo 340.000 di questi plot e fuori ne abbiamo 428.000 quindi in proporzione dentro si è campionato di più perché 20% ma i plot sono di più di un quinto abbiamo 6,1 milioni di occorrenze di piante dentro e 8,1 milioni di occorrenze fuori e siamo riusciti a misurare quante sono le specie che stanno dentro la rete circa l'88% di quelle presenti nell'intero territorio europeo e quante stanno fuori dalla rete però è interessante sapere se funziona bene l'Italia piuttosto che la Lituania se funziona bene la regione alpina piuttosto che quella atlantica quindi abbiamo incrociato questi dati con tutte le superfici di queste regioni biogeografiche e queste due curve ci mostrano come il verde la rete Natura 2000 abbia parità di area una diversità molto più alta di ciò che non è protetto quindi tutto sommato la rete Natura 2000 protegge Sifria ad alta diversità e questo funziona bene qui Italia mediterranea Italia alpina continentale Italia continentale Italia alpina non me la vedo ora però eccolo no australpina comunque l'Italia performa bene sia nelle tre regioni biogeografiche che abbiamo ecco e questo grafico sintetizza tutto il verde dice il verde scuro poi sono un po' dal tonico questo grigio verde scuro ci mostra ciò che sta solo dentro la rete Natura 2000 il grigio ciò che sta a cavallo e il giallo solo ciò che sta fuori prendiamo l'Italia se la trovo Italia c'è la regione alpina la regione continentale la regione mediterranea e il totale bene la regione l'Italia nelle nostre tre regioni biogeografiche come vedete ha molto grigio e molto verde funziona bene siamo uno dei paesi che ha una rete che raccoglie la maggior parte della biodiversità altre nazioni hanno molto giallo quindi hanno molta diversità fuori dalla rete Natura 2000 e questo qua è stato possibile ora lo stiamo per pubblicare è stato possibile solo perché milioni di dati milioni di dati sono stati raccolti in modo spesso volontario appassionato da studenti da ricercatori e messi a disposizione della nostra comunità scientifica che poi li usa per vedere l'efficacia della rete Natura 2000 o per fare un altro studio di cambiamento temporale come vi ho fatto vedere infine concludo citando due cose una è GBIF probabilmente molti di voi sono già familiari esistono una facility globale che si chiama Global Biodiversity Information Facility in cui tutti questi dati finalmente confluiscono in vari sistemi esistono tanti prima ho citato Eva che non è solo la moglie di Adamo ma anche l'European Vegetation Archive l'archivio europeo della vegetazione questo è GBIF lo cito perché per far vedere come in pochi mesi avevo scaricato avevo fatto uno screenshot 7-8 mesi fa per fare una conferenza e erano 2 miliardi di dati 2 miliardi non 2 milioni 2 miliardi di dati ho fatto uno screenshot ora mentre venivo su in treno 2 miliardi e 579 milioni cioè ci sono 2 miliardi e 579 milioni di dati disponibili a chiunque li voglia usare si scaricano liberamente quindi è importante queste banche dati poi vadano a nutrire le reti internazionali le banche dati globali eccetera ma quindi concluderei dicendo questo il mondo è oggi davvero pieno di dati di biodiversità ma questi sono sempre distorti non sono mai proporzionali questo è un lavoro bellissimo che hanno pubblicato due o tre anni fa in cui fanno vedere gruppo tassonomico per gruppo tassonomico quant'è il dato di occorrenza i dati di biodiversità rispetto alla diversità di specie per le piante sono classificate qui come gli uccelli sono quelli che hanno più informazioni sono relativamente poche specie e tanti le raccolgono le piante l'iliopsida quindi le monocotiledoni le pinopsida magnolopsida di cotiledoni quindi le piante tutto sommato abbiamo molti dati ovviamente quando poi si va agli arachnidi agli gasteropodi agli agaromiceti ci sono veramente pochissimi dati per le piante per fortuna direi abbiamo davvero tanti dati però questo non è solo importante dire noi ce le abbiamo e siamo più fortunati degli altri le piante sono la base funzionale strutturale dei nostri ecosistemi quindi è importante perché quando abbiamo dati sulle piante come questo possiamo fare inferenza anche sui dati di biodiversità di farfalle o di altri organismi di cui magari abbiamo meno dati ma che dalle piante dipendono direttamente o indirettamente per via della nutrizione del loro ciclo biologico dell'habitat che le piante costituiscono eccetera quindi i dati nostri delle piante della flora ci servono davvero tanto per gestire anche tutta quella parte rossa di dati di biodiversità quindi complimenti a chi li raccoglie complimenti a chi li organizza e grazie di cuore per avermi invitato a questo bellissimo evento non so se sono andato lungo perfetto perfetto anzi comunque questo vuole essere anche un momento in cui se c'è qualcuno che ha qualche curiosità qualche osservazione da fare è il benvenuto prima di passare comunque alla presentazione effettiva dei contenuti del volume intanto grazie Alessandro e adesso ci muoviamo verso proprio i contenuti di questa flora che non è la prima flora del Friuli Venezia Giulia sta proprio sulle spalle di giganti storici e anche più recenti ricordiamo le flore del professor Poldini che hanno impostato in maniera scientifica anche l'esplorazione del nostro territorio adesso però arriviamo in questo in questo in questo volume ad una conoscenza più dettagliata che ci verrà illustrata da Fabrizio Martini Fabrizio Martini è stato docente di botanica sistematica evoluzionistica sistematica all'università di Trieste si è occupato nella sua la faccio molto breve si è occupato nella sua carriera di fitogeografia floristica è uno dei più importanti floristi a livello nazionale sicuramente e devo dire che ha passato buona parte della dei suoi studi sulla flora sulla flora urbana concentrandosi sulla flora urbana concentrandosi sulla flora in generale anche lavorando con i colleghi del Bresciano e del Bergamasco per la bellissima pubblicazione sulla flora della Lombardia orientale centro orientale e poi questi ultimi 15 anni ha continuato quello che ha fatto da una vita continuare a dedicarsi anche alla conoscenza della flora della sua regione e oggi ci parlerà del risultato del risultato che come vi dicevo si appoggia su la conoscenza una conoscenza regionale che ci viene dal passato e che comunque guarda sempre al futuro proprio perché come abbiamo visto questi dati sono importanti per fornire dati utili dal punto di vista applicativo e anche proiezioni proiezioni future quindi adesso lascio la parola Fabrizio e grazie grazie buonasera e benvenuti a questa presentazione dopo la allusione di Valentino agli amanuensi penso che mi farò chiamare Fra Martino a nome di tutti gli autori ringrazio il professor Chiarucci per questa bellissima introduzione sull'importanza del dato e della raccolta del dato che può essere fatto tranquillamente su base volontaristica naturalmente da persone che abbiano acquisito una conoscenza adeguata a far sì che quel dato sia ritenuto valido ringrazio ovviamente anche tutti i collaboratori e sono tanti sono credo più di 50 a vario titolo di questo lavoro e poi naturalmente ringrazio la regione per il sostegno che ha dato alla pubblicazione e i due moschettieri dell'università di Udine senza i quali questo lavoro non sarebbe uscito ve lo dico francamente è stata solamente la volontà e la capabilità di Francesco e di Valentino a far sì che questo lavoro finalmente veda la luce ecco terminati i convenevoli possiamo cominciare a dare qualche notizia sul metodo del rilevamento che come abbiamo visto dalla prolusione del professor Chiarucci è fondamentale per poi ottenere una valida risposta a livello globale il rilevamento floristico da noi è stato importato dal professor Pignatti alla fine degli anni 60 ed è quello che è usato dalla cartografia floristica dell'Europa centrale CFCE il territorio che si vuole investigare viene diviso viene suddiviso da una griglia fissata nella quale si opera poi il rilevamento questa griglia ha una serie di unità tre l'area di base che è quella in cui vedete racchiusa la regione e ciascuna area di base misura circa 144 km quadrati la sua quarta parte il quadrante che misura 36 km quadrati è quella unità di rilievo che è ideale perché altrimenti al di sotto del quadrante e cioè lavorando per settore quindi la quarta parte del quadrante è necessario un numero così elevato di rilevatori che nessuna alla nostra regione è in grado di poterlo mettere insieme noi abbiamo lavorato al quadrante però prima di noi sono usciti due atlanti del professor Poldini nel 91 e sempre del professor Poldini con la collaborazione di Giuseppe Oriolo e di Marisa Vidali nel 2002 il lavoro che presentiamo stasera non differisce sostanzialmente da questi due precedenti lavori semplicemente è più preciso perché mentre questi lavori sono stati realizzati con una ispezione limitata alle aree di base nel nostro caso la ispezione è andata a svilupparsi per quadrante questo perché i nostri vicini di casa gli austriaci i carinziani e gli sloveni avevano già utilizzato questo sistema per la loro cartografia e quindi partendo da un'idea che è nata diciamo alla fine degli anni 90 da un gruppo di teridologi di coloro che studiano le felci i quali volevano rappresentare la distribuzione delle specie di felci per tutta l'Italia nord-orientale ecco quindi che noi ci siamo trovati aderendo avendo aderito a questo progetto ci siamo trovati di fronte alla necessità di rivisitare la nostra regione alla ricerca delle felci completamente perché come vedete questa cartografia veniva redatta per quadrante dunque noi abbiamo dovuto rifare completamente la cartografia per le felci ma a questo punto il tempo impiegato e le energie sul campo sono state tali da convincerci che era il caso di iniziare una cartografia al quadrante anche nella nostra regione perché altrimenti i dati floristici raccolti all'area di base non sono comparabili con quelli raccolti al quadrante per la scala diversa ora nell'Atlante delle Orchidacee sempre per lo stesso territorio l'Italia nord-orientale uscito nel 2013 da Perazza e Lorenz il nostro lavoro è stato molto facilitato rispetto al precedente Atlante per il fatto che avevamo già iniziato la cartografia al quadrante questo ci ha risparmiato molte energie e ha nello stesso tempo stimolato la produzione di una nuova banca dati che vedete nell'immagine sviluppata da Enzo Bona che è un mio carissimo amico che ha svolto lo stesso compito per l'Atlante floristico della Lombardia centro-orientale province di Bergamo e di Brescia e che quindi non ha fatto altro che trasportare la banca dati già esistente per la Lombardia alla nostra regione questo ha permesso di incamerare i dati nel database e nello stesso tempo chiarirci le idee sugli obiettivi che si volevano raggiungere e quindi che sono praticamente elencati qui redigere un inventario nuovo aggiornato realizzare la banca dati cosa che è stata fatta e a quest'oggi la banca dati non è solo a disposizione degli autori e dei collaboratori ma anche della regione della regione Friuli-Venezia-Giulia che è stata poi la promotrice della pubblicazione mi sono dimenticato ma lo ricordo adesso l'enorme lavoro che è stato svolto dalla editrice forum e che ha avuto come dire contro una composizione e una redazione molto difficili da ottenere e questo per questo dobbiamo ringraziare la dottoressa Norma Zamparo che è stata la coordinatrice della casa editrice proseguo a portare con rilevamento cartografico della frola le nuove conoscenze pensate che nell'arco di questi 15 anni diciamo così sono 137 le entità vegetali fra specie e sottospecie di piante superiori che sono state iscritte ex novo nella nostra flora la banca dati permette a questo punto di avere una come dire uno sguardo costantemente aggiornato sulle piante di lista rossa che sono quelle minacciate e poi infine quella uno degli scopi è quello speriamo realizzabile di offrire alle amministrazioni territoriali un strumento in grado di poter essere utilizzato nei rispettivi territori l'ultimo che vedete elencato è che adesso è realizzabile partecipare alla realizzazione di atlanti corologici sovra regionali come quelli che sono già stati pubblicati e sovra nazionali in questo momento c'è in fase di completamento si potrebbe dire l'atlante dell'endemismo dell'Italia settentrionale quindi ben più su un territorio ben più vasto rispetto a quello dei due atlanti sovra regionali quello delle orchidee e quello delle felci che finora hanno visto la luce è un lavoro molto complesso che speriamo di poter portare a termine nei prossimi due tre anni perché riguarda ripeto le alpi gli appennino settentrionale in pratica tutte le regioni dell'Italia settentrionale sovra nazionali perché c'è un altro progetto guidato dalla Svizzera dall'università di Berna se non erro il quale vuole alla fine produrre in rete un atlante che è in via di definizione le cui norme sono in via di definizione per l'intera flora delle alpi e non è poco credetemi la situazione dei dati del nostro atlante è oggi 308.758 dati per l'intera regione così distribuiti quadrante per quadrante non vado a illustrare per non farla troppo lunga ma come vedete ci sono quadranti quindi diciamo della estensione di cui parlavamo prima di 36 km quadrati poca roba se ci pensate che superano le 1175 dati nelle prealpi carniche per esempio o i 1196 in alcuni quadranti delle prealpi giulie però quello che stupisce almeno le persone che non sono addentro alle questioni è il fatto di avere quadranti di 1118 1019 1291 specie per quadrante negli ambiti urbani e questo come vedremo ha il suo significato ha un significato molto preciso che dopo andremo a vedere se voi guardate anche Udine nella zona di Udine ci sono 1046 specie ben più di quello che abbiamo nella bassa pianura per esempio qui nella zona delle risorgive con 558 specie il perché lo diremo fra un po' questa è la consistenza assoluta e percentuale dei dati come vedete la maggior parte il nucleo fondamentale sono dati di osservazione poi sono stati presi i dati di bibliografia storica ed erbario storico che sono però poca cosa cioè quelli abbiamo preso come limite fra reputare un dato storico o attuale il 1985 quindi tutti quelli precedenti all'85 sono ritenute storici tutti gli altri recenti e quindi vedete come la parte del leone la gioca i dati recenti altrimenti non avrebbe avuto molto senso pubblicare un atlante nuovo come vedete il totale qui è di 306 mila dati se ricordate il totale di prima vuol dire che nel giro di questa stagione sono stati implementati circa altri 2000 dati nel database quindi l'esplorazione è tutt'altro che finita anche perché ripeto la situazione delle piante come già il professor Chiarucci aveva esposto e cambia continuamente continuamente la tipologia dei dati implementati la riportiamo secondo le mappe che escono dalla prima versione della banca dati che non sono le mappe che trovate nel libro e poi vedremo perché dunque come vedete la tipologia dei dati è molto varia nell'originale banca date si va dai dati di erbario dati da fotografia naturalmente fotografie scattate da botanici e non da come dire amanti della foto panoramica dati di campagna di letteratura antica oppure scusate di letteratura moderna oppure per quanto riguarda i dati storici erbari rivisti e non rivisti e di letteratura non vi lasciate fuorviare dal 1968 perché la banca come dicevo è stata presa direttamente da quella della Lombardia centro orientale durante il lavoro della quale era stato stabilito che il 68 sarebbe stato lo spartiacque fra recente e antico noi abbiamo spostato tutto questo di una ventina d'anni ecco in questo caso vedete che per po' annua che è una banalissima specie che trovate dappertutto dappertutto dalla pianura dal litorale all'alta montagna per Poan la gran parte dei dati sono dati di osservazione perché è una specie inconfondibile o quasi per questo gruppo per il genere Alchemilla i dati invece sono solo dati d'arbario perché è un genere così complesso che attualmente in Europa esistono gli specialisti di questo genere si possono contare sulle dita di una mano in questo caso i dati sono stati tutti rivisti da una collega anziano ormai molto anziano tedesco il dottor Fröner che tanto per parlare di volontariato è un ex pastore protestante ed è la massima autorità oggi in Europa per quanto riguarda questo genere Ciperus serotinus vedete la tipologia dei dati in questo caso le citazioni storiche sono prevalenti sulle citazioni attuali è una specie fortemente minacciata di scomparsa come vedremo per quel che diremo in seguito Ciperus serotinus in questo caso Hieratium Glauco anche qua la maggior parte dei dati sono dati di erbario perché il genere Hieratium è forse il genere più complesso della nostra flora ed è anche questo appannaggio di la conoscenza approfondita si capisce non è che noi non conosciamo gli Hieraci ma a livello approfondito è di competenza di una praticamente di una sola persona in Europa il dottor Gottschlich tedesco che conosce ha dedicato praticamente tutta la sua vita a solo a come dire a raccogliere e a studiare solo le specie di questo genere da noi sono circa cento tra specie e sottospecie sono circa cento come vedete i dati prevalenti sono quelli di raccolta cioè di erbario rivisto questa invece è la rappresentazione attuale quella che si dà nel libro la prima tipo di rappresentazione quella che abbiamo visto prima è stata utilizzata per l'Atlanta della flora della Lombardia centro-orientale e ha suscitato molte critiche perché le mappe molto ridotte per esigenze di pubblicazione erano difficilmente leggibili con tutti quei simboli per cui in questo caso facendo lezione delle critiche ricevute abbiamo ridotto i dati a quattro tipi solamente i dati antichi di erbario o di letteratura in rosso i dati moderni di osservazione di letteratura oppure di erbario in nero questo per semplificare la lettura perché altrimenti le mappe diventavano molto difficilmente leggibili specialmente da quelli che si chiamano i non addetti ai lavori questo è l'aspetto dell'Atlante è stato come dire è stata la croce e la delizia dell'editore perché combinare i testi e le mappe in maniera da non relegare le mappe a una sola parte del libro e i testi tutti dall'altra parte quindi bisogna sfogliare completamente le pagine siamo arrivati io credo a un risultato eccellente nel senso che ogni mappa è commentata nella relativa pagina a sinistra naturalmente il numero di mappe è varie a seconda del testo a disposizione ecco questi sono gli argomenti di cui parleremo ancora stasera le cartine distributive dei gruppi critici la flora estinta la minacciata l'aliena e la flora urbana sono i capitoli più importanti del lavoro la distrizione dei gruppi critici il genere Achillea di cui il dottor Casolo che fa finta di niente è lo specialista a livello regionale lo specialista e in questo caso io lascerei quasi quasi a te la parola a proposito del genere che ne dici? potrei farla troppo lunga dunque Achillea è il millefoglio che trovate dappertutto dalle aiole ai prati ai pascoli fino in alta montagna eccetera eccetera è un genere molto complesso perché le specie si ibridano facilissimamente fra loro e quindi questo comportava la difficoltà di presentare una mappa che fosse attendibile dal punto di vista statistico cioè che quelle osservazioni fossero realmente relative a una certa specie nel caso di Achillea Collina vedete e di tutte le Achille del gruppo millefoglio le mappe sono due una quella a sinistra che è realizzata sulla base delle prove di laboratorio fatte nel laboratorio del dottor Casolo e cioè diciamo considerando l'aspetto biochimico della specie in particolare per quanto riguarda le molecole dei pro-azzuleni nel secondo caso invece sono le osservazioni e quindi la possibilità che nel dato di campagna entri anche un dato che non è di Achillea Collina ma di un ibrido molto simile con Achillea millefolion per esempio ora queste due mappe vedete sono i congruenti sul piano statistico perché l'areale che scaturisce dagli esemplari d'arbario sottoposti all'analisi biochimica grosso modo è congruente con quello del morfotipo questo rassicura sul fatto che non si è grossi svarioni nel rilevamento in campo forse non li abbiamo fatti per quanto riguarda Gladius e un altro scusa Fabrizio se ti interrompo ma è forse volevo ricordare che assieme a me questo lavoraccio l'ha fatto anche il dottor Massimo Buccheri del museo di Uline e che purtroppo stasera era un altro impegno grazie sì era necessario Gladius Illiricus sono Gladius Illiricus e Gladius Illiricus sono due bellissime specie entrambe protette di difficile discriminazione fra loro come vedete il carattere che è quello principale il carattere diacritico principale sta nelle tuniche del bulbo ora essendo una specie protetta non è possibile ed essendo anche piuttosto diffuso il genere non è possibile cominciare a scavare tutti i bulbi naturalmente anche quei due che vedete in foto poi sono stati ripiantati ovviamente essendo una dunque le gli altri caratteri sono caratteri molto piuttosto evanescenti e non sempre riconoscibili per tali e allora queste sono le due mappe di Gladius Pollustris e Gladius Illiricus che sono praticamente presenti nello stesso ambiente per il momento sembra che ibridi non ce ne siano oppure non ce ne siamo accorti tuttavia i dati accumulati erano tanti e allora ecco la soluzione diciamo molto discutibile è questa di presentare la distribuzione delle due specie insieme va bene consci del fatto che nessuna delle due rappresentazioni di ciascuna specie esaurisce la presenza della specie sul territorio regionale la flora estinta passiamo adesso al capitolo sulla flora estinta finora si contano 243 fra specie e sotto specie che non ci sono più di queste il 38% vedete sono scomparse prima del 1900 il 37% dal 900 al 925 e il 25% dal 926 al 2000 vedete a destra un breve elenco di alcune di queste con le ultime indicazioni che noi abbiamo sulla loro presenza quindi per lo più pubblicazioni o dati di arbario storico vedete Carex Hatmani era presente solo nella zona di Forni di sopra ed è stata spazzata via era una specie di torbiera è stata spazzata via dalla costruzione delle piste da sci drosera anglica drosera anglica è scomparsa con ogni tanto sto fa un po' di scherzi si diverte drosera anglica scomparsa nel 906 con la bonifica di tutta la zona del cormonese della zona interna del cormonese ma per esempio Tifa minima ne avevamo una sola stazione nella zona in una golena del tagliamento è sparita nell'85 e questa è una specie una delle più recenti scomparse che abbiamo dovuto patire e così via la flora minacciata che è un altro capitolo riguardo la flora estinta e vedete questo è lo stato delle categorie di rischio secondo la scala IOSN e cioè i taxa gravemente minacciati minacciati vulnerabili e i taxa quasi a rischio ora vedete le percentuali che ci sono dunque sono circa sono circa per quello che possiamo dire sono circa allo stesso livello percentuale le diverse categorie e rappresentano l'11,4% della flora regionale non poco visto che molte di esse sono specie che risiedono nella pianura che è la zona più fortemente minacciata la distribuzione sul territorio è questa che vedete rappresentata in questa tabella in cui la regione è stata divisa in macro unità fisiografiche quindi il litorale a bassa pianura all'alta pianura il carso l'area collinare alpi e prealpe canica alpi e prealpi giulie ora come vedete il carso che è la zona più antropizzata della regione certamente è quella in cui le specie a rischio di minaccia le specie minacciate gravemente o a rischio elevato sono quasi il 30% della flora scusate del totale delle specie minacciate per quanto riguarda la distribuzione per ambienti ecco gli ambienti dove risiedono le specie più minacciate sono gli ambienti umidi gli ambienti sinantropici gli ambienti costieri per quanto riguarda gli ambienti umidi e gli ambienti costieri è facilmente comprensibile la costa è stata completamente antropizzata e l'unica parte di laguna ancora esistente è rappresentata da due isole Martignano e che sono rimaste ancora in uno stato naturalisticamente accettabile tutto il resto è stato trasformato in o bonificato e trasformato in campi arati un po' diverso vedete quindi l'ambiente la percentuale sale al 21 quasi al 22% per gli ambienti umidi e per gli ambienti costieri al 12,1% per gli ambienti sinantropici questo forse merita una spiegazione uno si potrebbe pensare che gli ambienti sinantropici sono nemici per la tonomasia della flora in realtà la vecchia agricoltura estensiva e l'allevamento del bestiame di tipo artigianale consentivano la permanenza di specie come per esempio il giusquiamo nero di Ushiamus in Niger consentiva la permanenza di specie che col cambiamento delle tecniche di aratura tecniche agrarie e di allevamento sono sull'orlo della scomparsa quest'anno il dottor Dreon ne ha trovato una stazione qua nelle prealpi carniche ma vedete che la maggior parte delle stazioni di questo Ioshiamus di giusquiamo sono stazioni storiche non ci sono più anche quella sul caso che io conoscevo e che era di dubbio indigenato è sparita non c'è più travolta dall'abbandono del pascolo dall'abbandono della concimazione e soprattutto dal rimboschimento naturale la flora aliena altro capitolo questo è proprio il capitolo altrettanto dolente quanto la flora minacciata perché vedete che se l'80 quasi l'80% della nostra flora è data da specie autoctone quasi il 20% è dato dalla flora all'octano archeofite di cui fa parte anche i giusquiamo che sono le specie che praticamente accompagnano l'uomo dal neolitico a oggi e le neofite che sono invece le specie esotiche entrate dalla scoperta dell'America dal 1500 insomma del 1492 ora vedete come varia la questione la distribuzione delle specie aliene nel tempo vedete che le archeofite e le neofite erano praticamente allo stesso livello all'inizio tra il 1700 e l'inizio dell'Ottocento poi la si biforca sempre di più la tendenza di questi due gruppi mentre le archeofite rimangono più o meno costanti con qualche lieve incremento le neofite no vedete dal 1970 al 2022 esse sono passate da poco più di 200 220 a più di 5 a quasi a no a più di 500 a più di 500 vedete il salto che si è fatto praticamente in 50 anni di semi e poi globalizzazione le neofite ne hanno tratto il massimo beneficio possibile per quanto riguarda i luoghi da dove queste specie provengono vedete che negli ultimi 50 anni sono esplose le specie provenienti dalle Americhe dalle zone subtropicali delle Americhe più esattamente che sono ormai di gran lunga le neofite più come dire le più reattive positivamente purtroppo per noi alle variazioni ambientali e le più e le meglio adattabili alle variazioni climatiche purtroppo e sono quelle che avranno la vita più facile come vedremo tra poco anche in futuro presumibilmente ecco per quel che riguarda anche le specie asiatiche più o meno la cosa è la stessa però vedete questa biforcazione indica che mentre diciamo fino al 970 le neofite di origine accidentale cioè quelle che arrivavano con le sementi o con i trasporti e le neofite diciamo importate a scopo intenzionale e quindi quelle floristicamente importanti quelle come dire le specie come dire da giardino erano più o meno allo stesso livello adesso per cui mi pare che possiamo evidenziare uno scarto sempre maggiore che riguarda il progressivo inselvatichimento delle specie di giardino delle specie a fiore delle specie coltivate per la fioritura vistosa questo è preoccupante e a questo dovrebbe provvedere il legislatore come già si fa in altri paesi europei proibendo la vendita la commercializzazione di specie esotiche da fiore che abbiano già dimostrato tendenze all'invasività in altre regioni in altri stati con climi analoghi al nostro questo lo si sta vedendo per molte di queste specie che sono state importate a scopo ornamentale per esempio le rei notri japonica e saccalinensis che stanno letteralmente spazzando la flora del sottobosco dei boschi dei boschi igrofili andate lungo l'isonzo e le vedete questo per quanto riguarda per esempio rei notri ma ce ne sarebbero tante altre che meriterebbero attenzione come vedremo dopo in conclusione per quanto riguarda le neofite sembra attualmente che siano in progresso non tanto quelle derivate da importazione accidentale e quindi che hanno fioriture poco vistose graminacee ciperacee eccetera quanto quelle importate a scopo di coltivazione in giardino per esempio le rudbecchie le rudbecchie che sono quelle grandi margheritone gialle aranciate con il centro scuro quelle se ne stanno andando allegramente per i fatti loro ecco questo vi voglio portare alcuni esempi di questa dell'espansione di alcune di queste neofite grazie al fatto che possediamo appunto la documentazione come diceva il professor Chiarucci prima dell'Atlante del 91 del professor Poldini di quello del 2002 di Poldini Oriolo e Vidali e la nostra osservate Ambrose e Artemisi Foglia era presente qua e là in pianura ma non c'era per esempio praticamente in montagna nel 2002 già aveva cominciato la sua presentazione nel 2022 è ormai diffusa anche in montagna non solo nelle basse vallate il che sarebbe comprensibile ma anche fuori dalle vallate se ne c'è in equidens che credo molti di voi conoscano e che è una invasiva sudafricana io l'ho trovato in cima a un ghiaione sotto il monte glenina in cima a un ghiaione quindi le capacità di espansione di queste piante hanno veramente dell'incredibile guardate Impatience Parmiflora era coltivata come specie simile non so se avete presente i begli uomini che si coltivano in vaso i quali non sono sfuggiti a coltura Impatience Balsamina non è presente in natura Impatience Sbaffariflora è stata scoperta in alcuni punti in montagna poi vedete è scesa in pianura nel 2002 c'era già in pianura e sul carso nel 2004 è scesa e continuerà a farlo Ligustrum lucidum non era segnalato nel 91 nel 2002 era quello oggi ha conquistato tutta la pianura fin alle balze delle prealpi Trachycarpus fortunei è qualcosa di incredibile è la palma di Chussan è una palma coltivata dall'Ottocento nei giardini delle ville triestine e probabilmente anche udinesi e se ne è rimasta buona fino alla fine del secolo probabilmente perché i frutti non riuscivano a maturare io questo lo azzardo come ipotesi perché dimostrarla almeno io non sono in grado di farlo ma oggi producono una quantità impressionante di frutti maturi maturi sono blu sono grandi come una ciliegia e probabilmente sono il pasto di alcune specie di volatili di uccelli perché guardate nel 2002 e guardate oggi oggi la palma di Chussan si trova allo stato spontaneo spontaneo nata da seme alberi palme di tre o quattro metri quattro metri nei boschi grofili lungo i fiumi quindi le capacità di queste piante di adattamento specialmente ai luoghi antropizzati hanno qualcosa di impressionante questa palma se ne è stata zitta silenziosa nei giardini per più di un secolo e poi esplode e adesso l'abbiamo in tutta la pianura friulana lungo i principali fiumi e torrenti eccole qua queste le vedete questi grafici sono di per sé eloguenti guardate il prunus lauroceraso che è una una pianta da siepe da siepe coltivata nei giardini come siepe e per la bellissima fioritura fino al 2002 non ne conoscevamo l'esistenza allo stato spontaneizzato dal 2002 al 2021 si è conquistata il 30% dei quadranti in cui è stato fatto il rilevamento floristico dal 2002 al 2020 in 20 anni in 20 anni ed eccoci alla distribuzione in sede regionale delle specie delle categorie principali di aliene queste mappe sono prese dal lavoro di Buccheri di cui ricordava prima il conservatore di botanica al museo di storia naturale istituzione presso la quale sono depositati tutti i nostri campioni d'erbato guardate le casuali saranno casuali perché ancora non hanno raggiunto la capacità di riprodursi ma non è casuale la loro localizzazione sono localizzate esattamente in corrispondenza alle zone più urbanizzate della regione Monfalcone e Trieste Udine Maniago Pordenone quelli sono i poli le zone urbanizzate sono i poli di attrazione delle nuove neofite le quali poi possono naturalizzarsi quindi compiere per intero il ciclo riproduttivo quindi la produzione di seme e di germogli e allora vedete che già questo tipo di piante ha completamente colonizzato tutta la pianura friulana e si è introdotta nella val tagliamento nella bassa val tagliamento e nella val del fella rimangono isola felice le risorgive laddove è stato posto mano alla ricostruzione ambientale le trasformazioni ci sono forse le più pericolose sono esotiche naturalizzate che entrano di prepotenza nell'ambiente naturale e si insediano stabilmente cambiando la fisionomia dell'ambiente naturale una di queste è amorfa frutticosa per esempio c'è stato un intervento della regione che l'ha eradicata e adesso si tiene sotto sorveglianza per evitare che ripenetri ma tutta la bassa friulana tutto il litorale e la pianura friulana le siepi sono quasi esclusivamente dominate dalla dalla oh signora è una amorfa frutticosa scusate ogni tanto il contatto con i neuroni non si fa precario ora siamo quasi alla conclusione la distribuzione delle fioriture è interessante perché vedete che la flora naturale ha dunque le autoctone queste in verdi in verde con tutte le approssimazioni del caso perché è chiaro che la fioritura in pianura non occupa gli stessi mesi che la fioritura in montagna va bene questi sono valori medi allora la fioritura delle specie autoctone si avviene fra maggio e giugno se voi andate a vedere le altre che sono tutte quante aliene vedete come le fioriture si spostino sempre più verso la stagione autunnale questo perché le estati sono sempre più calde e si prolungano sempre di più nell'autunno a questo punto uno partendo da questo diagramma si può anche cosa che nel libro mi sono azzardato scrivere si può ipotizzare che fra trent'anni la fioritura nella nostra regione sarà una fioritura bimodale con due con due apici uno in maggio per le fioriture delle autoctone e uno in settembre ottobre con la fioritura dell'autunno in questo ripercorrendo esattamente il diagramma fioritura delle zone mediterranee cioè delle zone calde dove l'aridità estiva separa due gruppi di fioriture quelle primaveriglie e quelle autunnali in concomitanza con l'arrivo delle piogge io non ci sarò qualcuno dei più giovani probabilmente spero spero di no spero di no ma forse potrà constatarlo ed eccoci alla conclusione le flore urbane che sono un capitolo che mi ha veramente interessato moltissimo perché la città per meglio dire la città nella come dire concezione urbanistica di centro storico perché poi la periferia e le costruzioni sono diverse seleziona le specie e le seleziona secondo uno studio del professor Wittich a Münster in cinque categorie qui semplificate in tre sole guardate il modello urbanofobo cioè le specie che non tollerano l'uomo sono a Trieste come a Udine a Pordenone schierate in periferia e dove sono rimasti parchi pubblici con un relativamente alto grado di naturalità a Udine le rogge per esempio per cui la sfalciatura delle rogge dovrebbe tenere conto di questo fatto che le rogge le sponde delle rogge sono luoghi di rifugio per la flora spontanea che penetra in città e quindi adeguate al mantenimento di questa flora le flore ci sono poi specie cosiddette urbano neutrali cioè che ci sia la città o non ci sia la città non gliene importa niente e le vedete qua sono specie molto diverse fra loro per esempio l'olium perenne è una graminacea bellis perennis è una margherita roripa silvestris è una parente dei cavoli va bene tutte queste se le trovate le trovate anche non solo ma la città non scoraggia il loro arrivo arrivano e si insediano in orti aiole scarpate non ha importanza arrivano e si insediano e dopo abbiamo il modello urbanofilo cioè quelle delle piante cittadine in sesso stretto cioè sono piante che trovate specialmente in città e come vedete anche qua sono le più diverse saggina è una cariofilacea parente dei alla lontana dei garofani il chenopodi astro è parente dei chenopodi cosa volete che vi dica sono piante molto diffuse però descrivere un chenopodio non è facile non è facile non è facile lo spinaccio ecco lo spinaccio la bieta è una cariofilacea però non credo che avete mai visto uno spinaccio e una bieta fioriti perché non sono più commerciabili e gli amaranti la stessa cosa basta che andiate vicino a un campo di mais quasi tutto quello che vedete è amaranto ecco queste sono specie che la città sembra attirare a sé producono una tale quantità di semi il chenopodiastro murale che ho nel nel giardino della chiesa vicino a casa mia quest'anno ha fatto una splendida fioritura tra virgolette perché il giardiniere non era tanto contento e avrà prodotto io penso milioni di semi milioni di semi e questo lo fanno tutte le piante anche le piante da marciapiede quelle che voi che si calpestano va bene eppure riescono a sopportare il calpettivo a fiorire e a disseminarsi queste sono le piane piante urbanofi io direi mi fermo qua grazie a tutti per la pazienza con cui avete seguito grazie a tutti grazie a tutti benvenuti non è scontato è piacevole vedere la sala gremita ed era come vi dicevo un momento importante per cominciare a riflettere e quello che continueremo a fare studiando questo libro grazie a tutti e buona serata grazie a tutti